Chi ha assistito alla scena l'ho fatto con il cuore in gola. E il video che immortala questo spettacolare salvataggio di un bambino di 4 anni sospeso nel vuoto è naturalmente diventato virale. L'eroe è Mamoudou Gassamak, che in meno di un minuto ha scalato i quattro piani di un edificio parigino per mettere al sicuro il piccolo che era rimasto aggrappato alla ringhiera del balcone per non precipitare. Il bambino si trova ora in una struttura per minori, mentre il padre è sotto custodia per accertamenti sull'accaduto. La madre non era a Parigi al momento dell'incidente. Il presidente Emmanuel Macron ha ricevuto all'Eliseo Gassamak, originario del Mali, e senza permesso di soggiorno. Dopo avergli conferito la medaglia d'onore per atti di coraggio e dedizione, ha promesso di impegnarsi non solo per la regolarizzazione del giovane immigrato, ma anche per la sua naturalizzazione. Ha poi aggiunto che l'uomo dovrebbe essere integrato nel corpo dei vigili del fuoco. Tutto questo mentre la Francia si prepara ad approvare quest'estate una legge che prevede norme più severe in materia di accoglienza.